Andrea Pellegrino, comandante della Capitaneria di Porto di Pozzola, ancora una volta il contrasto alla pesca abusiva sul territorio Flegreo Domizio? Sì, abbiamo fatto un'operazione di polizia marittima, in questo caso è stata sanzionata una turbosoffiante, unitamente ad altre unità di Porto che in maniera illegale esercita un'attività di pesca con attrezzi che soltanto i pescatori professionisti possono utilizzare, quale ad esempio i rastrelli da pesca e le reti. Comandante, nonostante i continui interventi vostri e delle forze dell'ordine in generale la pesca abusiva in questo periodo sembra aumentare sempre di più? C'è sicuramente il nostro sforzo costante di contrastarlo, questo a favore della legalità e di tutti gli operatori onesti e invitiamo gli utenti a segnalarci tutto ciò che loro ritengono essere non in osservanza alla normativa dei settori, quindi di farcelo sapere, possibilmente anche attraverso dei filmati o dei rilievi fotografici. La pesca di Frodo che avevano fatto è poi stata rimessa in mare fortunatamente e quindi per il proseguo dell'attività marina? In questo caso qua sono state sequestrate circa 500 kg di prodotto nella fattispecie di telline che sono poi state ributtate in mare in modo tale la potesse riprodurre. Quindi in questo caso è stato contestato che cosa? Il fatto che questi pescherecci hanno di fatto effettuato un'attività di pesca con tempi e modalità non consentite.